Ciao Emanuele, ben ritrovato. Senti, ho visto che la vostra nuova tagline è Cloud Done Right. Mi fai capire meglio di che si tratta? In tre parole siamo riusciti a sintetizzare il nostro approccio. Secondo noi, per avere un cloud ben fatto, occorre disporre di risposte precise attraverso un'automazione intelligente che aiuti i team IT a garantire ai propri utenti transazioni digitali sicure e perfette. Sono certo che anche voi condividete questa visione, o sbaglio, Rodolfo? Emanuele, sono assolutamente d'accordo. Cloud e automazione sono due pilastri della nostra offerta. In particolare, la nostra strategia si basa su cloud ibrido che unisce infrastrutture tradizionali servizi erogati da cloud pubblico. A ciò aggiungiamo funzionalità avanzate di automazione che consentono di ridurre in efficienza costi, vulnerabilità e complessità. Emanuele, secondo te, cosa possiamo fare di più per aiutare i nostri clienti ancora meglio di oggi? Insieme possiamo aiutarli ad affrontare questa rivoluzione senza esserne travolti. Senza piattaforme di nuova generazione come Dynatrace, capaci cioè di adattarsi a questi ambienti dinamici e di automatizzare le attività a minor valore aggiunto, i repartiti rischiano sempre più di sprecare il proprio tempo a far funzionare le cose. Ora che ogni mercato è diventato digitale, nessuna azienda può più permettersi di sprecare le proprie energie e rinunciare all'innovazione. Cosa ne pensi, Rodolfo? Emanuele, concordo assolutamente. Soprattutto come mostrato anche dalla pandemia, le organizzazioni capaci di proporre rapidamente nuovi servizi digitali sono avvantaggiate rispetto a quelle tradizionali. Sono avvantaggiate a un percorso di trasformazione. Red Hat può aiutare ad affrontare la sfida di digitalizzazione con delle tecnologie che vanno dall'automazione alla gestione delle infrastrutture per il cloud ibrito, dai container fino alle soluzioni di sviluppo applicativo. Rodolfo, come hai detto, cloud, container, microservizi accelerano l'innovazione ma innalzano il livello di complessità, soprattutto per quel che riguarda il monitoraggio. Dunque garantire l'osservabilità degli ambienti cloud e delle moderne applicazioni cloud native è solo una delle tante sfide che insieme possiamo aiutarli a vincere. Rodolfo, quando ci rivediamo per mostrare ai nostri amici, perché sempre più aziende scelgono Red Hat e Dynatrace? Emanuele, ma quale occasione migliore del nostro Red Hat Summit Connect che si terrà a Roma l'8 novembre a Milano il 30 novembre in una sola giornata? Possiamo scoprire come far leva sull'innovazione e sfruttare tutte le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Scogliamo insieme l'occasione per ringraziare Alberto Ghisleni e la Project Informatica che ci hanno dato il loro bellissimo spazio per poter fare questa intervista insieme. Quindi grazie ancora di cuore. Grazie davvero.